Un punto per parte, buone indicazioni e soprattutto reti inviolate. Comincia così il campionato di Serie D per Biceglie e Nocerina, rose che ancora devono esprimere il loro massimo potenziale ma che in occasione della prima uscita del Ventura hanno mostrato primi segni di compattezza e solidità. Squadre in campo con moduli quasi speculari, 3-5-2 per il Biceglie di Rufini che schiera in attacco la coppia Lorusso-Leonetti, Campani con un iniziale 3-4-2-1, Cavallaro mette esperienza al centro della difesa con Bovo in attacco, c'è Talamo. Nocerina subito pericolosa in avvio al quarto minuto, schema su calcio di punizione, Talamo si libera in aria e calcia, Martorell è attento e mette in angolo il primo squillo pugliese e all'ottavo con Di Prisco che salta un uomo, mette il mirino ma la sua conclusione è alta, Campani in avanti al diciassettesimo, Palmieri trova spazio centralmente, cerca la botta da fuori ma la traiettoria è da dimenticare. Al diciannovesimo la prima occasione nitida del Biceglie, rapido scambio tra Leonetti e Lorusso, quest'ultimo calcia da posizione insidiosa, Altumi mette in angolo, la Nocerina risponde al venticinquesimo con una nuova opportunità, Palmieri in aria calcia bene, Martorell è ancora attento e blocca la sfera sulla linea di porta, partita a viva ma senza strappi, alla mezz'ora carbone calcia col mancino, rasoterra debole, nessun problema per l'estremo difensore campano. Al quarantunesimo primo cambio del match, mister Cavallaro è costretto a far uscire Bovo problemi per lui, al suo posto Cason, partita che scivola verso l'intervallo da segnalare al quarantaseiesimo il cartellino giallo nei confronti di mister Rufini per proteste, un presunto fallo di mano a metà campo non ravvisato dal direttore di gara, termina il primo tempo, squadre negli spogliatoi sullo 0-0. La ripresa regala poche emozioni, al quinto calcio di punizione dall'altre quarti battuto da Garofalo, Menichino trova il tempo per il colpo di testa, Martorell para senza troppi problemi, partita che si riaccende al ventinovesimo, rilancio in avanti per la piana che corre via velocissimo in campo aperto, Altumi esce dai pali ma viene superato, la porta è sguarnita, cross in aria sul cui arriva Cason che salva il risultato, Pugliesi che cercano la zampata nel finale, quarantatresimo Prado ci prova di testa, non impatta bene la sfera, azione che sfuma, al quarantanovesimo sale in cattedra, il neo entrato morra, conclusione in porta, Altumi pasticcia ma la difesa ci mette una pezza, al cinquantunesimo ultima iniziativa del match, cross tagliato di la piana in aria, nessuno ci arriva, la nocerina allontana il pericolo, finisce così 0-0 al Ventura, un punto all'esordio per Pugliesi e Campani.